benvenuti in questa guida top 7 macchine da caffè manuali di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo l'elite pl 42 tem danita macchina da l'elite pl 42 tem danita è una macchina da caffè prosumer di alta qualità con un macinacaffè integrato e un termobid la sua potenza di 1200 watt e la capacità di preparare due tazze contemporaneamente la rendono un'ottima scelta per chi cerca una macchina da caffè manuale di qualità punteggio 74 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo delonghi macchina da caffè espresso questa macchina da caffè manuale delonghi è una vera e propria opera d'arte con la sua tecnologia di macinazione sensore controllo attivo della temperatura e preinfusione dinamica offre un caffè espresso di qualità superiore la costruzione robusta e l'aspetto elegante rendono questa macchina un must per qualsiasi amante del caffè punteggio 79 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo gaggia ri 8433 11 viva style macchina gaggia ri 8433 11 viva style è una macchina da caffè espresso manuale di alta qualità la pressione di 15 bar e la potenza di 1025 w garantiscono un caffè cremoso e gustoso la capacità di un litro e la possibilità di usare sia il macinato che le cialde rendono questa macchina versatile e facile da usare punteggio 83 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare sage appliances barista express la sage appliances barista express è una macchina da caffè manuale di alta qualità con 2400 watt di potenza 1 tazza e 18 ottavi di acciaio inossidabile grigio è una macchina da caffè eccellente per preparare un caffè di qualità professionale facile da usare e con un design elegante punteggio 88 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo delonghi la specialista arte ec 9155 mb la delonghi la specialista arte ec 9155 mb è una macchina da caffè manuale di alta qualità con un design moderno ed elegante ha un potente motore da 1400 watt un macina caffè integrato e un kit barista incluso il cappuccinatore mai latte art aggiunge un tocco professionale al tuo caffè punteggio 92 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo sage appliances stebarista pro la sage appliances stebarista pro è una macchina da caffè manuale di alta qualità il design elegante in acciaio inossidabile e nero tartufo è bello da vedere e facile da pulire la potenza di 1,65 watt e la capacità di 2 litri offrono un'eccellente esperienza di caffè punteggio 88 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica delonghi dedica ec 685 m macchina da la delonghi dedica ec 685 è una macchina da caffè manuale di alta qualità offre una pressione di 15 bar un serbatoio estraibile da un litro e uno scaldatazze per mantenere il caffè caldo può preparare sia caffè in polvere che in cialde s punteggio 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale